strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di giulio gaudiano ben trovati da giulio gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di strategia digitale ragazzi oggi sto veramente a 2000 perché la scorsa settimana ho avuto una botta di testo una botta di matto dovevo preparare le puntate di questa settimana e ho detto ma scusa ma strategia digitale ha dei finanziatori che ogni mese ci mettono dentro dei soldi perché vogliono partecipare a questo progetto e partecipano nel produrlo ma non è la pianificazione la parte editoriale parte di questa produzione e allora visto che non potevo riunirmi con la coautrice del programma Sara Viltri che era molto occupata ho detto ragazzi ma io ho tanti collaboratori in più sono andato sul gruppo facebook dei produttori di strategia digitale abbiamo fatto una piccola riunione di redazione con facebook live e quindi questa settimana è tutta frutto di questa programmazione che abbiamo fatto insieme e devo dire sono molto molto contento infatti partiamo proprio rispondendo da una domanda di uno di voi ascoltatori un produttore di alessio il quale domanda a proposito di patreon patreon sapete bene una piattaforma di crowdfunding pensata disegnata e ideata proprio per chi produce contenuti quindi non per chi fa prodotti oppure ha bisogno di crowdfunding per l'acquisto di qualcosa in particolare ma chi produce contenuti di giorno in giorno di mese in mese di anno in anno e vuole un contributo ricorrente da parte della propria community il dubbio di alessio è fondamentale perché l'adozione di patreon in questo momento è massiva youtube sta uscendo fuori di testa sul sull'utilizzo di patreon perché vede che tanto potenziale di business viene utilizzato da patreon viene dirottato su patreon invece che essere interno alla piattaforma youtube quindi sono contento di rispondere a questa domanda vi ricordo solo prima di ascoltare la domanda da alessio che il modo migliore per farmi una domanda è andare su strategia digitale punto info c'è un bel pulsantone e mi mandate la vostra domanda attraverso telegram detto ciò bando alle ciance è arrivato il momento di ascoltare la domanda di alessio furlan a proposito di come utilizzare patreon per il crowdfunding ciao giulio ti faccio una domanda relativamente a patreon sto mettendo su un progetto che è molto simile al tuo in ambito fotografico però quindi ho il mio podcast ho i miei materiali ho degli ebook che sono dei manuali ho dei corsi già creati che sono quelli che mi fanno vivere in sostanza praticamente con il mio progetto web io faccio questo di lavoro e vendo i miei video corsi vendo i miei ebook sulla fotografia e va bene così stavo mettendo su il progetto patreon legato al podcast che tratta fotografia e metterò come ricompensa in base a quanto pagano gli utenti sia la possibilità di accedere ai manuali quindi scaricarsi manuali e sia accedere ai video corsi come hai fatto tu esattamente il mio dubbio è ti capita mai o mi potrà capitare che ho degli utenti che magari vanno sullo store normale oppure vanno dove dove possono accedere ai video corsi pagano l'iscrizione al video corso che è un prezzo elevato tutto sommato perché lo pagano una volta sola stessa cosa per i manuali li pagano una volta sola quindi pagano un prezzo alto e magari poi si accorgono che esisteva patreon quindi esisteva la possibilità di pagare un po meno per accedere ai stessi materiali ovviamente però c'è la cadenza mensile però magari così dicono porca miseria ho pagato 40 euro per scaricarmi i manuali quando magari mi iscrivevo un mese a patreon e con 20 euro al mese il primo mese mi scaricavo tutti i manuali e poi potevo decidere se continuare a finanziare oppure ridurre il finanziamento e secondo te come ci si comporta in questi casi oppure hai tenuto nascosto patreon e continui a vendere i video corsi insomma vorrei capire come ti va a interfacciare con gli utenti carissimo alessio la domanda è ottima ottima domanda e mi ha fatto anche un po' sorridere quando hai detto che cosa fai tieni nascosto patreon no io non tengo nascosto assolutamente nulla e quello che c'è da capire per rispondere alla tua domanda è la differenza sostanziale tra l'acquisto di un tuo prodotto servizio e il finanziamento nei tuoi confronti che cosa voglio dire voglio dire che patreon e il crowdfunding è una roba diversa dal vendere un prodotto un servizio nel tuo caso un videocorso un ebook ed essere ricompensato patreon non è una piattaforma per fare pagamenti ricorrenti per incassare ragamenti pagamenti ricorrenti ok non è una software per gestire la membership da parte del di tuoi clienti non è questo è vero che delle il suo funzionamento e delle sue caratteristiche lo renderebbero molto comodo per fare questa cosa ma il concept che sta alla base di patreon è totalmente diverso patreon è una forma di crowdfunding ricorrente non di pagamento ricorrente o di gestione di una membership ricorrente che vuol dire in soldoni in parole povere molte persone forzano un pochino il funzionamento di patreon per poter comodamente incassare importi ricorrenti di varie entità anche molto piccoli da un numero molto grande di persone cosa che soprattutto per la legislazione italiana e per la fiscalità italiana sarebbe un delirio cioè io non potrei accettare un euro da mille persone fare mille fatture perché contabilizzare una fattura mi costa più di un euro dal mio commercialista e quindi non sarebbe conveniente allora molti utilizzano patreon per poter raccogliere micropagamenti da tante persone su base ricorrente e poi incassare invece un solo pagamento da parte di patreon ma patreon non è pensato per questo e non funziona per questo allora ti spiego prima di tutto quali sono i motivi per cui non devi utilizzare patreon per gestire le tue membership o per fare pagamenti ricorrenti il primo motivo è fiscale proprio a livello legale te lo dico perché sto portando avanti un'indagine attraverso il mio commercialista per capire se l'italia accetta i soldi che tu prendi tramite patreon come una donazione infatti non è così scontato che tu possa regolare o possa dichiarare quei soldi come una donazione con relative tasse da pagare o non pagare e quindi il mio commercialista sta svolgendo quest'indagine in ogni caso una cosa che lui mi ha detto è un elemento fondamentale è l'allineamento o nel caso della donazione il disallineamento tra il pagamento di un import economico il pagamento di denaro e il godimento di un bene o di un servizio cioè se fondamentalmente le persone ti danno i soldi e tu gli dai il cammello potete utilizzare patreon potete utilizzare paypal potete utilizzare quello che vi pare per gestire questa transazione potete chiamarlo come vi pare ma fondamentalmente tu stai vendendo un prodotto un servizio quindi quella roba è una prestazione è un è un bene e devi pagare le tasse come se stessi vendendo una roba se invece c'è un disallineamento cioè tu mi dai dei soldi poi io in cambio posso non darti niente certo magari ti ringrazio o magari non ti ringrazio neanche magari ti mando un regalo o forse non te lo mando ma c'è un disallineamento chi mi dai soldi non è non lo fa per avere in cambio un bene da godere o un servizio lo fa per darmi i soldi cioè la ricompensa di quell'azione di finanziamento è insita nell'azione di finanziamento se si verifica questa questo disallineamento tra il motivo tra il fatto che ti danno dei soldi e quello che tu gli dai in cambio allora si crea la condizione perché sia una vera e propria donazione un vero e proprio finanziamento questo è il primo motivo il secondo motivo è importantissimo è la relazione con la tua community cioè giustamente tu ti sei posto il problema perché hai detto ma poi le persone si straniscono allora lo devi tenere nascosto non glielo devi dire devi trovare il modo di incastrare queste due cose tu stai cercando di incastrare due dinamiche completamente diverse tra loro una è la dinamica dello scambio dove appunto io ti pago per avere un tuo corso quindi scambiamo conoscenza un prodotto fisico in cambio di denaro l'altro è il mondo della donazione cioè io ti do dei soldi perché apprezzo quello che fai o perché voglio supportare il tuo progetto perché ci credo e per questo ti do dei soldi e tu in cambio non mi devi dare nulla patreon prevede la possibilità di dare dei rewards delle ricompense ma queste ricompense devono essere delle ricompense cioè dei modi di dire grazie non vincolanti non vincolati infatti patreon non ti obbliga per il pagamento ricorrente per esempio per la donazione ricorrente non ti obbliga a mettere un bene ricorrente molti youtuber o podcaster nel momento in cui tu accendi un finanziamento di 10 dollari al mese ti mandano una maglietta ma non è che quella maglietta vale 10 dollari o vale 10 dollari al mese è qualcosa di slegato ma loro per ringraziarti di quello che stai facendo ti mandano un regalo allora nella mia esperienza è sicuramente motivante un tipo di reward che si va a spalmare nel tempo esattamente così come il finanziamento perché ti motiva motiva i tuoi finanziatori a rimanere attivi e svegli e a rimanere i tuoi finanziatori a continuare a far parte di questo progetto perché ravviva in loro l'entusiasmo ma attenzione quello che stai facendo non è distribuire a loro un prodotto un servizio che comprano su base ricorrente quindi vai sicuramente a toccare anche il discorso della community allora tu hai detto io faccio il podcast ma vendo ebook e videocorsi e questo è il mio lavoro se questo è il tuo lavoro cioè se l'ebook e videocorsi sono il tuo prodotto sono potremmo dire la fine il termine del tuo funnel e il podcast per esempio è uno strumento di marketing allora non inserire i tuoi ebook e i tuoi videocorsi all'interno del tuo patreon fai in modo che il tuo patreon e il tuo crowdfunding possa sostenere l'attività del podcast ribilanciando quel valore che tu dai nel podcast gratuitamente ma fai in modo che gli ebook e videocorsi siano disponibili solo tramite pagamento quindi mettiamo sugli udemy chi ti ascolta e ti finanzia poi potrebbe anche voler acquistare il tuo corso e allora se basta e lo acquista e ne gode ne gode l'utilizzo dall'altra parte su patreon metti dei rewards che non vadano a coincidere con quello che vendi dall'altra parte e allora tu magari potresti dirmi lo so che non sei il milanese imbruttito ma potresti dirmi uè gaudiano parli bene e razzoli male tu ce l'hai messi i corsi dentro patreon com'è che l'è ecco ti spiego subito perché io ho i corsi all'interno di patreon uno dei reward da al a chi finanzia strategia digitale la possibilità di accedere a tutti i corsi che ho creato te lo ti rispondo molto semplicemente perché per me i corsi non sono un prodotto io non vivo dai corsi non è quello che che mi permette di guadagnare i corsi sono per me uno strumento di marketing sono una un passaggio che porta più vicino alla consapevolezza del del brand di giulio gaudiano come chi può aiutarti a sviluppare la tua strategia digitale chi può aiutarti a orientarti nell'utilizzare il digital come strumento di business per me il corso è uno strumento di branding così come il libro io non è che vivo dei libri poi la domanda potrebbe sorgere spontanea ed è scusa ma allora ci guadagni dai libri ci guadagni dai corsi certo che ci guadagno perché allora l'hai messi a pagamento se per te non sono un prodotto li ho messi a pagamento perché per me il fatto di pagare un prezzo dà valore al corso che stai fruendo o al libro che stai leggendo se io lo stesso libro te lo regalo ti assicuro che quel libro lo leggerai di meno o gli darai meno valore quando lo leggerai se quel libro te lo sei comprato se quel corso te lo sei acquistato se nel momento in cui ce l'avevi davanti hai dovuto decidere se tenere quei soldi dentro il tuo portafoglio o andarti a comprare un gelato oppure spendere quei soldi sul corso insieme al tuo tempo la tua attenzione sarà maggiore e quindi fruirai quel corso non come vabbè una roba gratis l'ho trovata su internet no sarà qualcosa che ti sei comprato qualcosa che hai acquistato qualcosa sulla quale hai deciso di investire e ti dico la verità questo fa tutta la differenza del mondo ragazzi questo l'ultimo mese strategia digitale è stata ascoltata più di 50.000 volte ok quindi ci sono 50.000 occasioni di fare business con il digital io non è che quando faccio una consulenza o un coaching personalizzato a un mio cliente racconto cose che nel podcast non ho mai detto racconto segreti che a voi ascoltatori di strategia digitale non ho mai rivelato no ragazzi la realtà è una io sono sempre la stessa persona faccio sempre la stessa cosa sia quando creo il podcast sia quando faccio coaching a un mio cliente allora qual è la differenza una parte della differenza è la personalizzazione nel senso che io oggi sto rispondendo a te tu mi hai mandato la tua domanda ma non puoi in questo momento farmi ulteriori domande approfondire farmi vedere il tuo bilancio farmi parlare con il tuo commercialista riportarmi farmi vedere la tua ipotesi di strategia digitale il tuo funnel e chiedere il mio parere nel tuo caso specifico ok quindi una parte è la personalizzazione ma un'altra parte e la parte più importante secondo me è l'importanza che tu dai a quello che ci stiamo dicendo se io e te fossimo in una sessione di consulenza e tu avessi pagato 500 euro più iva per parlare con me per un'ora come fanno i miei clienti ti assicuro che ogni minuto ogni istante ogni parola di quella consulenza tu la prenderesti e faresti di tutto per spremerla tirandone fuori il valore tirandone fuori un ritorno di investimento perché hai investito in questo tempo sono sicuro che di tutti voi che ascolterete questo podcast questo episodio ci sarà chi certamente dirà mazza che figata allora vado subito a fare questa azione stimolato da quello che ho sentito ma c'è anche chi molto semplicemente arriverà alla fine ascolterà la sigla spegnerà il podcast e sentirà ascolterà l'episodio successivo oppure gli passerà così magari cambierà pure dire vabbè oggi giulio ci vuole fare lavorare ma io mi volevo un po' intrattenere ascoltando strategia digitale e cambierà stazione cambierà podcast quindi le informazioni il valore che le informazioni hanno è molta di questo di questo valore è dato dal valore che noi gli diamo dalla dalla fiducia da quanto mettiamo noi quanto scommettiamo quanto mettiamo sul piatto su questo tavolo quanto siamo disposti a giocarci in questa mano per ottenere quello che vogliamo dalla nostra strategia digitale e allora carissimo carissimo alessio il discorso è tutto qua io do la possibilità di acquistare i miei libri do la possibilità di acquistare i miei corsi ma per me libri e corsi sono uno strumento di marketing uno strumento di branding sono qualcosa che deve condurre le persone dal aver scoperto che c'è questo strano tipo giulio gaudiano che fa un podcast si chiama strategia digitale fino al momento in cui per chi naturalmente è destinato a questo per chi può trarne un reale vantaggio fino al momento in cui questa persona dice voglio fare del business online e quello che mi può aiutare a partire da zero è giulio gaudiano in questo percorso ci sono delle gradazioni in queste gradazioni c'è anche ma ha messo giulio gaudiano mi sta simpatico qualsiasi mi compro il suo libro su youtube infatti volevo fare dei video oppure ma lo sai che sta cosa il podcast è carina ho visto che giulio ha fatto un corso di podcasting ma ora me lo compro dai tanto si fa online su udemy quanto costa vabbè dai si investo in questa cosa ecco c'è tutto un percorso tanto che molti dei miei clienti prima di diventare miei clienti nel coaching o nella consulenza sono stati acquirenti di corsi o di libri da me iscritti magari ancora prima sono stati ascoltatori del podcast e allora è tutto all'interno di un'unica strategia quindi per concludere utilizza patreon come piattaforma di crowdfunding dando valore alla tua community coinvolgendo questa community avendo consapevolezza che le persone che vanno su patreon vogliono finanziarti e devono voler finanziarti cioè dillo chiaramente non trasformare anche patreon in un luogo dove ci deve essere un dare avere di chiaramente qua come dico chiaramente io a tutti i produttori di strategia digitale voi siete dei pazzi furiosi siete dei pazzi perché state investendo in qualcosa che non vi dà niente in cambio apparentemente perché se voi investite in questa cosa evidentemente qualcosa in cambio già ce l'avete avuto e quando si racconta il crowdfunding quando ho dovuto spiegare il crowdfunding al commercialista ha fatto due occhi che sembravano non lo so due uova due uova in camicia mi guardava con gli occhi spalancati diceva ma scusa non ho capito aspetta ripetemelo di nuovo che fai tu il podcast e poi c'è qualcuno che viene e ti dà dei soldi ma perché che cosa gli dai tu in cambio cioè non riusciva proprio a capirlo ma questa logica è la logica del dono è quello che facciamo per tutta la vita cosa cosa ci danno i nostri figli in cambio per tutto quello che noi facciamo per loro cosa ci danno in cambio gli amici cosa la vita non è questa non la vita non è un dare avere ma è un creare valore continuamente pensa al mondo in questo momento c'è un sole pazzesco stupendo un cielo qua che una poesia un'opera d'arte cosa do in cambio io a questa bellezza non do niente tutta la realtà è basata sulla gratuità e lo scambio è qualcosa che proprio a livello storico viene dopo questa gratuità tu non paghi per vedere la bellezza delle montagne la bellezza di un fiore che raccogli in un prato non è che paghi per questo ma la gratitudine il senso di pienezza che ti dà a vedere per esempio la bellezza è qualcosa che spontaneamente ti spinge a rispetto ti spinge a voler aumentare questa bellezza piantando altri alberi o averne ancora di più integrandoti con essa e quindi questo meccanismo della gratuità oggi grazie al digital grazie al crowdfunding riesce a portare valore a chi attraverso sempre il digital porta questo valore nelle orecchie nel nostro caso o nelle vite degli altri quindi alessio mettiti al lavoro dai valore gratuito e prenditi valore gratuito dalla tua community dalla community dei tuoi finanziatori e vendi tranquillamente da un'altra parte in tutta un'altra dinamica i tuoi ebook e i tuoi videocorsi buon lavoro in bocca al lupo e buona fortuna siamo arrivati alla fine di questo episodio spero alessio di averti dato informazioni utili e spero di averle dato ai molti che stanno andando su patreon su patreon per dare valore al a questa a questo dono che fanno tutti i giorni creando contenuti è una dinamica stupenda quella del crowdfunding io la amo moltissimo e spero di poterne parlare presto sono stato invitato a vari eventi nel 2018 per parlare proprio di crowdfunding e è un tema molto a me molto caro perché per fare per guadagnare da un contenuto da un video attraverso la pubblicità devi far vedere quel video a mille persone ma invece ne basta una alla quale fa vedere il video e alla quale questo video fa differenza per poterti donare un singolo euro quindi per donare un è per guadagnare un euro con la pubblicità devo farla vedere a mille persone che potenzialmente potrebbero non essere interessate per guadagnarne uno attraverso il crowdfunding basta che lo faccia vedere a una singola persona ma per quella persona devo produrre il reale valore e allora ne parleremo sicuramente più avanti e io voglio ringraziare coloro questi pazzi scatenati che partecipano al crowdfunding di strategia digitale i miei amatissimi produttori ragazzi è stato bellissimo preparare con alcuni di voi questa settimana di strategia digitale spero prestissimo attraverso il canale telegram di avvisarvi di nuovi incontri nuovi riunioni di redazione nel frattempo vi ringrazio ringrazio anche sarah veltri cotrice del programma il nostro fonico costanza mineo e radiospeaker.it per il sound design ragazzi grazie mille e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di giulio gaudiano